E' un derby giocato in maniera sportiva e soprattutto cercheremo di unire anche le tifoserie. Lo abbiamo fatto e credo che abbia avuto una bellissima idea anche il presidente dell'US Catanzaro, quello di unire per esempio i tifosi bambini, piccolini tifosi che saranno su una parte della tribuna delle curve, saranno insieme e quindi ti faranno insieme ognuno per le rispettive squadre. E' una cosa molto bella e questo deve essere anche la dimostrazione che non vogliamo sicuramente in queste partite avere dei diverbi con le nostre sorelle città come in questo caso Cosenza. Staremo insieme a loro, anche le autorità, ma soprattutto abbiamo invitato anche il sindaco di Cosenza a partecipare insieme a me, poter vedere questa bellissima partita. Si dimostreremo di essere dal punto di vista sportivo uniti perché abbiamo bisogno di una Calabria Unida, abbiamo bisogno di dividerci neanche attraverso lo sport, forse Acqua. Grazie a tutti.